oh mio dio non mi sembra vero di poterlo annunciare senti quando fai un parto beh io non posso essere presente però molte volte ascoltatrici potranno sapere quando fai quel parto lungo doloroso ma dopo ti arriva solo una bellissima grande gioia ecco sto parlando della nuova edizione del metodo anon ragazzi su tre volumi guardate che belli volume 1 2 e 3 mamma mia che spettacolo che spettacolo e sì ebbene sì c'era c'era da tempo la voglia e infatti ci stavo lavorando ci stavamo lavorando da un bel po di tempo su questa nuova edizione dell'anon per chi non conosce l'anon l'anon è questa cosa qui di una serie di esercizi spaccadita spaccamani un po tutti simili per quanto riguarda la prima parte poi ci sono le scale arpeggi quindi la seconda terza parte solitamente sono quelle che vengono utilizzate di meno però sono altrettanto fondamentali ma tutto dipende come vengono fatti questi esercizi nel vecchio anon che cosa succede lui ti dà note ogni tanto c'è qualche descrizione sopra o sotto questo esercizio rafforza il quinto quarto quinto dito fallo bene sarebbe anche interessante capire come però vanno eseguiti quando si parla di rilassamento che cos'è questo rilassamento quando si parla di altri tipi di tecnica sarebbe bello capire un pochettino di più magari con delle immagini magari con una foto della posizione della mano come deve essere questa mano tutto questo è stato inserito all'interno dell'anon edizione 2023 ma guardate che bello guardate che bello adesso lo andiamo a vedere all'interno lo sfogliamo all'interno così insomma sarete voi a dire se è veramente bello è una ociofeca andiamo a vederlo ecco il confronto della vecchia generazione e nuova generazione certo certo la generazione chi non la conosce questo libro è leggermente vissuto va bene va bene vuol dire che ho fatto i compiti quando insomma quando andavo a lezione allora aprendolo quello vecchio chiamiamolo così c'è una piccola parte di introduzione tradotta anche in un'altra lingua e poi inizia subito il primo esercizio e qui alla fine ti dà qualche piccola indicazione guardiamo il luogo tata 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 intanto la qualità della carta importante c'è un indice con le varie spiegazioni e chicca delle chicche a questa pagina ci sono tutti i primi 20 esercizi c'è la prima battuta in senso ascendente e la seconda battuta in senso discendente quindi non hai bisogno neanche del libro cioè già solo questa pagina secondo me vale tutto il libro e questo è geniale me lo dovete concedere dopodiché non è che parto subito le note perché studiare questo libro perché quando un insegnante dà un libro a uno studente l'insegnante sa perché glielo dà ma lo studente non lo sa quindi è bene che lo studente si possa fare una lettura e dice ma perché l'insegnante ha dato questo libro estremamente interessante come si studia questo libro devo mettermi al piano buttare giù le mani sulle note che c'è scritto qui ci sono un po di consigli giusto un po poi ci sono alcune considerazioni essenziali qui ci sono anche insomma delle storie dei racconti di motivazione perché la motivazione è tutto se manca la motivazione lo studente si ferma se c'è la motivazione lo studente va avanti quindi importantissimo e solo dopo una bella introduzione arriva finalmente la parte 1 dice gli esercizi che troverai in questa prima parte cioè in questo primo volume saranno gli esercizi dall'1 al 20 e ti serviranno per l'agilità della ditta l'eredità l'indipendenza eccetera eccetera finalmente arriva l'esercizio numero 1 e viene fatta una piccola descrizione una piccola interessante descrizione dell'esercizio numero 1 di due pagine dopodiché si parla un pochettino di rilassamento perché quando poi l'insegnante dice allo studente devi essere rilassato la prima cosa che gli viene in mente allo studente quando gli si parla di rilassamento è oh adesso mi metto qui sull'amaca tranquillo mi rilasso quindi qualche parola sul rilassamento e finalmente arriva l'esercizio numero 1 perché l'abbiamo diviso su due volumi perché non so se puoi notare un po' la differenza soprattutto poi a partire dall'esercizio numero 2 e ci va andiamo subito ecco gli esercizi dal 2 in poi sono tutti su una pagina nella vecchia edizione e potrei capire che per far sì che ci sia tutto su una pagina hanno scritto un po' in piccolo e questo personalmente a me non piace sarà io sono miope porto gli occhiali e mi piace vedere le cose bene ecco perché babam primo esercizio su due pagine poi c'è ovviamente la spiegazione del secondo esercizio prima poi finirà finirà babam secondo esercizio su due pagine questo quindi è il lavoro che abbiamo fatto rendere gli spartiti più oriosi più spazio fra di loro leggibili diteggiature ben leggibili spiegazioni prima dei brani discorsivi e ovviamente si parla anche di tecnica pianistica ci sono foto che parlano delle varie parti dell'anatomia del corpo insomma è interessante questa guarda che foto della mano i movimenti della mano insomma insomma c'è io penso che che insomma si sia capito un pochettino il tipo di lavoro qualitativo che c'è stato fatto in questa prima inizio ovviamente volumi 2 volumi 3 contengono gli altri esercizi quindi sono 60 gli esercizi dell'anon 60 esercizi 20 nel primo volume 20 nel secondo 20 nel terzo ma ci si è soffermato un pochettino di più su questi esercizi con un po' di spiegazioni e di consigli di tecnica pianistica bene sono emozionato sono di parte perché in questo libro ci ho messo il cuore l'ho fatto in collaborazione sempre col mio carissimo amico in primis e collega simone cangiano collega col quale abbiamo rifatto anche il metodo beyer qui puoi vedere il video dove l'ho messo a confronto con il vecchio ho realizzato anche il vecchio metodo bona quindi sto svecchiando un pochettino quei metodi che sono validissimi però hanno 200 anni e non sono stati quasi mai ritoccati sia a volte c'è stata fatta una prefazione una piccola introduzione ma rimodernizzati quasi nessuno quindi bene bene sono molto felice il libro si trova su amazon i libri si trovano su amazon e il prezzo è ridicolo il primo volume questo qui costa meno di 10 euro e l'idea era quello di fare un prezzo super accessibile che sia possibile da tutti a malapena ci copriamo i costi di stampa però l'idea era quello di cercare di dare una nuova diffusione il più possibile a macchia in modo virale di questi libri che insomma ritengo siano molto molto più utili della vecchia edizione d'altronde sono passati come dicevo un sacco di anni e c'era bisogno di una svecchiata fatevi sapere se vi piacciono se li avete già letti lasciate un commento qui sotto anche una recensione su amazon ci fa sempre comodo grazie a tutti ciao